Aver favorito la permanenza illegale in Italia di numerosi stranieri, mediante la presentazione di false attestazioni presso lo sportello unico per l'immigrazione. E' questa l'accusa con la quale la Procura di Cosenza ha emesso un'ordinanza di misura cartelare e domiciliari a carico di 5 persone, un imprenditore, un commercialista cosentini e 3 stranieri. Tutto nasce da alcuni accertamenti dopo una rissa avvenuta a Cosenza nel maggio del 2023, tra due migranti, legata al pagamento di somme di denaro per avere il permesso ad occupare determinate zone della città per esercitare il ruolo di ambulante. Da qui anche l'accusa di estorsione per un extra comunitario nei confronti di alcuni connazionali. Le indagini che ne sono conseguite, condotte dalla squadra mobile di Cosenza, hanno evidenziato un sofisticato modus operandi che serviva ad aggirare le leggi sull'immigrazione. L'imprenditore e il commercialista, secondo quanto è emerso, avrebbero orchestrato un sistema di assunzioni fittizie che consentiva agli stranieri di richiedere e successivamente ottenere un titolo di soggiorno che in modo fraudolento regolarizzava la loro permanenza sul territorio italiano.